Oh la nostra migliore amica Ciao champ Come stai? Ciao Natti Natti che succede? Perché mi hai dato appuntamento qui? Come promesso ho fatto qualche indagine per scoprire cosa sta tramando Arlow L'ho seguito fino alla testa di porco Ho notato che stava leggendo una lettera Non ho potuto vederne il contenuto ma portava la firma e il sigillo di Victor Rookwood E poi c'è un'altra cosa Appellaio matto Ho sentito Arlow parlare di te con i suoi compari Che ti abbiano scambiato per qualcun altro? No Rookwood e Arlow vogliono catturare proprio me E cosa vorranno mai da uno studente di Hogwarts? Il professor Fig mi ha detto di non parlarne Ma so di potermi fidare di te Vabbè certo possiamo parlargli Rookwood e Arlow vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot io e Fig Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla nostra carrozza Ma che diamine? C'è un'altra cosa Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica È quella magia che hai usato contro i troll a Hogsmeade? Credo di sì Sto ancora imparando ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare Ci basta sapere che Rookwood e Arlow sono una minaccia per entrambi Anzi per tutti Dobbiamo trovare il modo di fermarli Per sempre Quella lettera è la prova tangibile che serve alla gente singer Per questo ho seguito Arlow fin qui e ti ho scritto Ho bisogno che mi aiuti a recuperarla Sei molto determinata a fermare Rookwood e Arlow Perché? Ho conosciuto degli uomini così in Uganda So cosa può accadere se non li si ferma È una lunga storia Prometto di raccontartela quando avremo più tempo Per ora pensiamo alla nostra missione Va bene Ti aiuterò a trovare la lettera Natti Mi fa piacere Per prima cosa dobbiamo entrare nel mastio Io controllo l'ingresso principale Tu cerca un altro passaggio Non vedo guardie Ma dobbiamo comunque cercare di far più piano possibile Dopotutto Arlow è qui No trolls Dangerous Ministro della magia Non riusciranno a fermarci Troveremo il modo di entrare Servizio al cancello Non entra nessuno a meno che non sia con il branco O gli Ashwinder Tutto ciò che sottraia gli ospiti indesiderati viene condiviso Non puoi andartene se non sei stato rimpiazzato dal tuo sostituto Eh infatti lo vedo Peccato che la materializzazione si studi solo al sesto anno A quest'ora saremmo già dall'altra parte Ah De pulso Accio Il gardium leviosa Leviosa Lumos Devo entrare nella guardiola e aprire l'ingresso Così Natti potrà finalmente entrare Confrigo Lumos No non potevo tirare incantesimi Quando si è abbassato non puoi tirare incantesimi raga Forse questo serve ad aprire l'ingresso Non riesco a credere di doverlo mettere per iscritto Ma voi zucche vota non volete proprio ascoltare Il cancello si apre spingendo non facendone esplodere Cazzo avrei potuto sbagliare Signorina Ok Bello però cazzo Dovremmo fare molta attenzione quando Riesco a sentirli No No Non usate vada che d'ora impazzisco eh Poverino Conosci quell'ippogrifo? Va bene Nuovo piano Io prendo le prove e tu liberi l'ippogrifo D'accordo È la nostra occasione Forza Bravo Luke Bravo Luke Ah Dannazione Deve esserci un altro modo per raggiungere il tetto Spero che Natti non finisca nei guai Depulso Non è proprio il posto più sicuro in cui intrufolarsi Non è proprio il posto più sicuro in cui intrufolarsi Per i primi Come Bene Per il posto più sicuro in cui intruge uno Per il posto più sicuro i nostri Per il posto più sicuro in cui si tratta più sicuro in cui intrufolarsi Per i primi Per i primi Oh zia, fai un volo Cazzo, vedi questa roba me, fai mi bestialire Beh? Oh megalulle Andiamo a 2 di 104 Oh no, Tic aveva ragione Dobbiamo salvarvi da questi barbari Luke Scamander mod in arrivo Lo stanzo d'oro Lo stanzo d'oro Lo snaso d'oro ragazzi Quanto è bello Lo snasino d'oro 4 dobbiamo prestare attenzione 3 nisol 2 epogriffi Penso di sapere dove trarre un paio 0 fenici dove cerca Ci sono le fenici? Ci sono le fenici, voglio subito una fenice Reveglio Con frigo Perché? Alla forte È tutto a posto Sta tranquilla Zia, ma un anno e mezzo Figlio di puttana Aspetta che torno Guarda che davra La cavalcatura La cavalcatura Ragazzi Finalmente Vabbè ma che cazzo stai dicendo Col treno sotto Eeeh Quello è l'espresso per Hogwarts Sarà di ritorno da una corsa fuori programma È fantastico È incredibile, vero? Non è vero Madonna quanto è fatto bene ragazzi Puttana Eeeh 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 Eeeh